Manca esattamente un mese alla fiduzione da presentare il 2 settembre e che in qualche modo dovrebbe permettere alla Scandone di partecipare al campionato di Serie B garantendo quindi l'iscrizione. Ma ad oggi sono discorsi che sembrano non trovare una chance di futuro perché il club è nelle mani di nessuno e non c'è uno straccio di programmazione. La proprietà sidica stasi trincea dietro il suo costante ed inspiegabile silenzio mentre Nicola Alberani non ha alcuna intenzione di fare l'isomma della situazione costruendo una squadra sulla base delle promesse o dei pagherò. La Scandone è oggi poco credibile ed in ogni caso vista la mola e debitoria soltanto nei confronti della federazione un campionato di Serie B costerebbe poco sotto i 3 milioni di euro. Questo perché se la gestione costerebbe almeno 500 mila euro per garantire una squadra quantomeno accettabile i debiti sono di poco superiori ai 2 milioni. Il sindaco festa e in virtù anche dell'investimento compiuto il solo a credere che sia necessario partire. Per la giornata di domani sarebbe previsto un altro appuntamento tra il primo cittadino, il presidente Mauriello, Luigi Carbone e forse Nicola Alberani. Ma è il tempo di prendere una decisione definitiva sulla Scandone perché andare avanti in questo modo sta diventando davvero stucchevole.